È ufficiale, così come ha comunicato qualche giorno fa il direttore generale Roberto Fagnano, il governo, in particolare il ministro della Salute, ha finanziato il nuovo ospedale di Teramo per un importo di 82 milioni di euro. Questa sicuramente è una notizia molto importante. Un ospedale nuovo che sorgerà a Piano Daccio, quindi una posizione strategica per tutto il territorio provinciale, sicuramente sarà un ospedale all'avanguardia che permetterà sicuramente un rilancio dell'intero territorio, rappresentando un indotto economico, ma soprattutto una sanità migliore per tutti i cittadini abruzzesi. Logicamente tutti gli altri presidi ospedali rimarranno, quindi non c'è preoccupazione per gli ospedali di Atri, Giulianova e Sant'Omero. Quindi un ospedale sicuro, all'avanguardia, con strumentazione aggiornata, che sicuramente abbasserà anche la mobilità passiva, quindi la gente dovrà andare fuori regione per curarsi.